16-14 fino alla fine proprio? Sì fino alla fine siamo stati sfortunati innanzitutto sul secondo sete che le abbiamo mandati sul 2-0 per quella scivolata di Adanasiewicz purtroppo quella che abbiamo pagato a Carave che abbiamo dovuto poi alla fine non concedere più niente e alla fine invece abbiamo dovuto concedere un sete che è stato quinto e hanno vinto avete vinto che vi devo dire? rimane diciamo il positivo che abbiamo fatto una grande partita tutta Italia ha visto che noi siamo una squadra che quando scende in campo gioca per vincere perché è convinta delle proprie possibilità abbiamo perso speriamo che Dio voglia darci un futuro con delle vittorie anche per noi Champions League, Coppa Italia e Campionato siete stati comunque protagonisti fino in fondo a tutti e tra gli eventi un voto alla sua stagione, la stagione della sua Sir? beh la stagione gli darei un voto sette perché comunque siamo arrivati in semifinale volevamo arrivare in finale però ecco sette glielo darei poi sono incrociate diciamo degli acquisti che non hanno reso più di tanto poi comunque ci sono forse magari se prendevamo altri arriviamo più indietro come dicevo adesso al suo collega la squadra era stata questa, siamo arrivati qui che vi devo dire sette, voto sette sono soddisfatto alla fin fine ecco perché dopo queste partite alla fin fine abbiamo vinto ecco lei mi dice otto va bene otto via